La terza interrogazione è la 3.043 degli onorevoli Santerini ed altri sulle iniziative in merito alla durata del procedimento per l'acquisto della cittadinanza italiana. L'onorevole Mario Sberna può illustrare l'interrogazione per un minuto. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, a causa, lei sa, del lungo ITER si registra un'eccessiva dilatazione di tempi necessari all'utilizzo della cittadinanza italiana. Secondo il procedimento previsto alla normativa vigente, infatti, la richiesta della cittadinanza è soggetta a una serie di controlli da parte della Prefettura, dal luogo di residenza, dal Ministero dell'Interno di Roma, dalla Questura, dal Consiglio di Stato per ritornare infine di nuovo alla Prefettura che notificherà appunto il decreto di concessione alla cittadinanza. Il tutto dovrebbe avvenire in 730 giorni e tuttavia la definizione del procedimento incontra spesso impedimenti che ne ampliano i termini e le pratiche si arenano in attesa di pareri o di integrazioni richieste dagli uffici che portano in attesa di tre, di quattro, di cinque, addirittura di sei anni. Questo che appare una forzata e sistematica violazione dei termini di legge per la concessione della cittadinanza comporta soprattutto che i figli dei richiedenti che potrebbero acquisirla come figli minori di un cittadino italiano, a causa di questi continui ritardi, diventano in molti casi maggiorenni e quindi non possono più ottenerla. Quali iniziative, dunque, signor Ministro, anche di tipo normativo, intende lei porre in essere al fine di velocizzare l'iter che necessita un'evidente semplificazione amministrativa. Grazie. La ringrazio. Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, L'onorevole Santerini, ma qui rappresentato degnamente, chiede di conoscere le iniziative anche di tipo normativo che il Governo intende assumere al fine di velocizzare l'iter relativo all'acquisizione della cittadinanza italiana. L'esponenziale incremento delle istanze di naturalizzazione raddoppiate nell'ultimo triennio in costante crescita è riconducibile alla trasformazione del fenomeno migratorio dovuta alla sempre più marcata ricerca di stabilità nei paesi di accoglienza da parte dei cittadini stranieri. Questa situazione non ha mancato di produrre riflessi critici sullo stato delle procedure di concessione della cittadinanza la cui istruttoria, peraltro, risulta articolata e complessa coinvolgendo interessi fondamentali per lo Stato e implicando verifiche da parte di autorità nazionali ed estere anche in materia di sicurezza. Non può neanche essere sottovalutata in questo quadro la difficoltà di rafforzare gli uffici responsabili della gestione delle pratiche a causa della restrittiva congiuntura della spesa pubblica che ha fortemente limitato la manovra di assunzioni. Per ovviare a tali problemi sono state adottate alcune misure amministrative dirette a razionalizzare e semplificare le procedure di acquisto e concessione della cittadinanza grazie alle quali è stato possibile raddoppiare il numero delle istanze definite. In particolare, a partire dal primo giugno del 2012 è stata attribuita ai prefetti la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di acquisto o di niego della cittadinanza nei confronti di stranieri sposati con cittadini italiani. Nell'anno successivo alcune prefetture pilota hanno avviato un progetto per la sperimentazione dell'acquisizione online delle domande di cittadinanza destinato ad essere esteso su tutto il territorio nazionale e anche gli uffici centrali verranno rafforzati con l'assegnazione a partire dal prossimo mese di ottobre di 30 unità impegnate proprio nell'istruttoria delle istanze di concessione della cittadinanza. Inoltre è stata di recente implementato il sistema informatizzato di cittadinanza per l'emanazione dei decreti collettivi a cui segue l'invio dei singoli provvedimenti alle prefetture e la notifica agli interessati ed il tutto con modalità informatiche. Per quanto attiene alle iniziative di tipo normativo va ricordato che con il decreto legge 69 del 2013 convertito in legge 98 sempre del 2013 è stato reso più agevole il procedimento di acquisto della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia incidendo sia sulle modalità con le quali può essere dimostrato il requisito della residenza ininterrotta sia su quelle di esercizio effettivo del diritto di opzione della cui stessa esistenza spesso lo straniero non è consapevole. Sebbene permangano criticità, e mi avvio a concludere, Presidente, è innegabile che anche in virtù di questi recenti interventi il percorso di acquisto della cittadinanza sia stato reso in un qualche modo più agevole ed ulteriori disposizioni legislative contenute nelle varie proposte all'esame del Parlamento insieme alla costante innovazione anche tecnologica dei processi amministrativi potranno rendere ancora più spedito tale percorso nel rispetto degli interessi di grande rilievo che vi sono coinvolti. Grazie, Ministro Alfano. A facoltà di replicare l'Onorevole Sberna per due minuti. Sì, grazie, Signor Ministro, per l'eccellente risposta. Siamo soddisfatti sia per i miglioramenti da un punto di vista organizzativo, strutturale che per il recepimento delle norme emanate da questo Parlamento. Resta il fatto che di fronte ai numeri che lei stesso ha presentato e alle crescenti richieste di far parte di questo grande Paese e i figli degli immigrati che sognano di essere come noi cittadini italiani di un Paese accogliente e che fa di questi cittadini anche di questi cittadini il proprio futuro è evidente che ogni sforzo deve essere messo in campo per accelerare il più possibile il risultato finale. Mi auguro che sarà questo che farà il Parlamento e certamente anche il suo Ministero. Grazie. La ringrazio. Passiamo alla quarta interrogazione che è la 3.044 degli Onorevoli Lacquaniti ed altri concernente iniziative in merito all'attribuzione dello status di agente di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie e alle guardie zoofile. Onorevole Lacquaniti la puoi illustrare per un minuto. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, l'interrogazione odierna ha oggetto un parere che il suo Ministero, esattamente un anno fa, ha reso alla Prefettura di Brescia negando lo status di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria alle guardie venatorie e zoofile volontarie. In questo modo, andando un po' contro quello che era l'indirizzo già definito dalla legge del 157 del 1992 e poi confortato anche dalla alta giurisprudenza della Corte di Cassazione che prima nel 2006 e poi nel 2011 aveva confermato questo indirizzo, cioè il riconoscimento di questo status di polizia giudiziaria alle guardie venatorie e volontarie. Con l'interrogazione stiamo a richiederle di cambiare questo parere e di fare chiarezza in questa materia piuttosto complessa. Grazie. Il Ministro dell'Interno Angelina Fano può rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione l'onorevole Lacquaniti esprime, come ha già detto, la perplessità in merito al parere che lo scorso anno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso alla Prefettura di Brescia negando che alle guardie venatorie e volontarie possa riconoscersi la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Preciso al riguardo che il possesso di tale qualifica non è oggetto di conferimento amministrativo bensì discende direttamente da norme di legge in relazione alla natura e ai contenuti degli specifici compiti di vigilanza affidati a determinati agenti ed operatori. In effetti la legge 157 del 92 che reca norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio attribuisce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo a determinate categorie tra le quali non sono comprese espressamente le guardie volontarie e venatorie. A queste ultime sono attribuiti a determinate condizioni in maniera esplicita solo compiti di vigilanza. Peraltro il parere reso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Prefettura di Brescia non aveva alcuna portata innovativa poiché si limitava a richiamare in premessa una precedente circolare del 2003 e un pronunciamento del Ministero della Giustizia dello stesso anno entrambi contrari al riconoscimento delle qualifiche sia di ufficiale che di agente di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie venatorie e volontarie. Tale orientamento è del resto suffragato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ancorché ricorrano pronunce della Suprema Corte di segno diverso basate sull'assunto che la qualifica di operatore di polizia giudiziaria consegua dalla stessa attribuzione dei compiti di vigilanza venatoria. La questione potrebbe meritare anche un chiarimento legislativo con il necessario coinvolgimento del Ministero della Giustizia perché prevalgono i profili di competenza che sono del Ministero della Giustizia e un intervento legislativo che elimini ogni residua incertezza. Ringrazio il Ministro Alfano. Onorevole Lacquaniti ha facoltà di replicare per due minuti. Sì, io ringrazio anch'io il Ministro. È evidente che la materia è piuttosto complessa ce ne rendiamo conto e non è univoca e quindi convengo anch'io col Ministro che occorra un intervento normativo che mi riservo appunto nella mia qualifica di deputato di preparare, di predisporre. Per il resto la risposta però non ci convince. Non ci convince perché, ripeto, noi abbiamo la legge del 1992 che faceva riferimento espresso alle guardie in oggetto dell'interrogazione definendole e qualificandole come guardie giurate. Poi, in base a questo, sentenze della Cassazione, le sentenze nominate prima, elencate prima, facevano riferimento alle funzioni di polizia giudiziaria che possono essere riconosciute a questo personale volontario. Faccio notare che quando si parla di caccia si parla di un settore importante per l'economia nazionale, un settore che vanta un fatturato di un miliardo di euro, errotti, e quindi il corretto esperimento, svolgimento delle funzioni legate alla caccia, necessita anche di questo tipo di guardie. Sono guardie che sono, per così dire, a costo zero per il Paese, per lo Stato, per l'economia nazionale, sono guardie volontarie, sono guardie formate, quindi nulla relativamente alla loro attività può essere caratterizzato in termini di pressappochismo. A fronte di questo, le violazioni in ordine alla caccia, annualmente, sono violazioni che si contano nell'ordine dei centinaia. L'ultimo caso, l'abbattimento in provincia di Brescia, a Padenghe e sul Garda, di un raro esemplare di Falco. Nel 2012, le violazioni sia di ordine civile che di ordine penale sono stati, solo in provincia di Brescia, più di 400. A fronte di questi numeri, io ritengo che la funzione svolta da questi volontari possa essere estremamente rilevante. La ringrazio. Interrogazione 3.045 dei deputati Quartapelle, Procopio ed altri, concernente iniziative per la costituzione di un database ufficiale in relazione alle tragedie verificate nel Mediterraneo nell'ambito dell'emergenza a sbarchi. L'onorevole Paolo Beni, ha facoltà di illustrare l'interrogazione per un minuto. Grazie, Presidente. Signor Ministro, il tema è il flusso di migranti attraverso il Mediterraneo verso le nostre coste, ma in particolare il quesito che oggi le poniamo riguarda il dramma di chi non ce la fa, dei morti in mare, dei dispersi. Si stima siano quasi 2.000 ogni anno, ma non abbiamo dati ufficiali. Spesso neppure le testimonianze di sottocorritori e superstiti bastano a ricostruire l'accaduto. E assistiamo impotenti alla disperazione di chi cerca notizie dei propri cari. Talvolta li rintraccia, magari in un porto diverso da quello dove è arrivato, altre volte già morti e sepolti. Ecco perché noi chiediamo al Ministero di allestire un database coi nomi, le provenienze, l'età di quanti vengono segnalati dispersi. Un archivio a cui accedere per denunciare la scomparsa di qualcuno o per avere informazioni. Crediamo che sarebbe, e concludo, Presidente, un atto doveroso verso chi vive questo dramma, ma anche uno strumento utile a fornirci un quadro più esauriente di ciò che avviene nel Mediterraneo. Grazie. Prego, Ministro Alfano, a facoltà di rispondere per tre minuti. Prego. Con la interrogazione appena esposta mi viene chiesta la costituzione di questo database ufficiale gestito dal Governo. E gli onorevoli interroganti fanno presente in proposito che già alcune organizzazioni non governative raccolgono dati di questa natura basati tuttavia su fonti giornalistiche o sulla dichiarazione rese dalle persone soccorse e quindi prive del requisito dell'ufficialità. Il tema sollevato è ispirato da condivisibili e profonde motivazioni di carattere umanità legate alla necessità di facilitare la restituzione delle salve alle famiglie e ovviamente alle famiglie delle vittime di garantire una sepoltura dignitosa a coloro che hanno perso la vita in condizioni disperate. Attualmente non risulta attiva alcuna banca dati governativa dedicata specificamente alla raccolta di questo genere di informazioni. Per esigenze investigative le forze di polizia dispongono di una banca dati interforze SDI nella quale sono anche inserite le notizie relative a persone scomparse nonché le segnalazioni di rinvenimento di cadaveri non identificati. Tali informazioni corredate da una serie di dettagli dati antropologici e quant'altro sia possibile inserire vengono riversate nella correlata banca dati ricerca scomparsi ricerca scomparsi ai fini tutto questo ovviamente dell'accertamento di ulteriori trattamenti che possano agevolare l'attività di identificazione e di ricerca se il cadavere non identificato è considerato una possibile vittima di un reato le informazioni sono poi inserite nuovamente nella banca dati e ciò avviene anche quando si tratta di uno straniero che sia ritenuto possibile vittima di tratta di esseri umani o di immigrazione clandestina. Avuto riguardo alla natura delle informazioni e al loro mirato utilizzo è da ritenersi tuttavia difficile ipotizzarne la condivisione con organismi di volontariato sociale sebbene noi riconosciamo quanto sia stato fondamentale l'apporto della Croce Rossa italiana nella identificazione di più di 60 persone decedute in seguito al naufragio di Lampedusa avvenuto nell'ottobre del 2013 dopo quell'evento il commissario del governo per le persone scomparse competente alla tenuta del registro nazionale dei cadaveri non identificati ha avviato una complessa iniziativa finalizzata alla promozione e allo sviluppo di azioni in materia di riconoscimento dei corpi senza identità appartenenti a cittadini stranieri recuperati in mare a seguito della sciagura aggiungo che può essere una idea molto interessante quella proposta dagli interroganti cioè che alla luce di tutto questo si possa istituire una banca dati governativa che con tutti i sistemi di cautela e di protezione nella trattazione e nel trattamento di informazioni così delicate possa comunque avere una devoluzione specifica a questa finalità e ringrazio il ministro Alfano l'onorevole Lia Quartapelle Procopio può replicare per due minuti prego grazie signor Presidente signor Ministro in questo ultimo anno dalla tragedia del 3 di ottobre di Lampedusa il nostro paese si è dimostrato un paese estremamente accogliente ed è nell'accoglienza che tante volte tanti nostri membri delle forze dell'ordine tanti volontari tante persone che lavorano nell'associazionismo si sono incontrate e scontrate con la disperazione di tante persone che cercano dei dispersi siamo consapevoli appunto dello sforzo che viene fatto dal ministero per quanto riguarda l'identificazione dei corpi ritrovati anche se poi per esempio per la tragedia di Lampedusa il processo dell'identificazione non è ancora stato completato ci sono ancora 266 salme che aspettano di essere tutte quante o ritornate o comunque comunicate alle famiglie quindi anche diciamo quello di cui lei ci ha esposto è un processo ancora non perfettamente funzionante ma le segnaliamo ancora una volta che c'è il problema della segnalazione dei dispersi quest'estate ci sono state delle notizie in questo senso rispetto al naufragio del 3 di agosto soprattutto relative ai minori che ci dicono che non è solo un problema delle persone che vengono ritrovate ma è anche un problema delle persone che vengono segnalate come disperse e quindi apprendiamo con grande interesse della disponibilità del Ministro a pensare che appunto anche in occasione della tragedia del 3 di ottobre di Lampedusa si possa completare quanto già il Ministero sta facendo integrandolo anche con il tema della segnalazione dei dispersi grazie la ringrazio passiamo all'interrogazione 3046 degli onorevoli Fedriga ed altri concernente dati relativi agli immigrati arrivati sul territorio italiano dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum l'onorevole Busin la può illustrare per un minuto prego Presidente Ministro è passato un anno dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum nata sull'onda delle emotività per le morti per la tragedia delle morti accadute il 3 ottobre dove persero la vita circa 360 persone nel naufragio a largo di Lampedusa ed è il momento a Mare Nostrum di fare un bilancio di questa operazione dato che le decisioni del governo si giudicano e si valutano dai risultati e non dalle buone intenzioni per quanto nobili essi siano e uso le sue parole Ministro visto che lei stesso ha dichiarato che Mare Nostrum grazie all'azione concertata del patugliamento della polizia giudiziaria e della magistratura aveva due obiettivi principali primo la deterrenza cioè ostacolare il traffico di esseri umani e il secondo più importante di evitare le tragedie riducendo i rischi per chi si avventurava nell'attraversamento del canale io le chiedo signor Ministro in tutta onestà se lei ritenga che questi risultati siano stati centrati perché a noi risulta che l'effetto ottenuto sia esattamente l'opposto a noi risulta che abbiamo fatto un'opera di supporto e di incentivo a questi trafficanti di esseri umani che hanno aumentato il loro business i loro traffici portando 150.000 persone in un anno nelle nostre coste e che i morti siano aumentati come minimo di quattro volte rispetto alla media degli ultimi 13 anni Grazie Onorevole Pusin Ministro Alfano può rispondere per tre minuti Prego Grazie Presidente da quando ha avuto inizio l'operazione Mare Nostrum i dati in nostro possesso portano a quantificare in 499 le persone decedute e rinvenute e dalle dichiarazioni dei superstiti quindi non perché c'è stato un rinvenimento o un dato certo 1.446 quelle che risultano essere disperse voglio ripeterlo in base alle dichiarazioni dei superstiti per quanto riguarda i periodi precedenti gli stessi dati registrano nel 2011 e nel 2012 69 morti quello che l'onestà che lei chiede al governo e che il governo ovviamente suppone negli interroganti e nei singoli membri del Parlamento è che questo scarto questa differenza prima di Mare Nostrum sconta l'assenza di un dispositivo di soccorso e vigilanza articolato allo stesso modo ciò che inevitabilmente incide sulla raccolta dei dati e sulla loro attendibilità e comparabilità quindi fare un conto presente in Mare Nostrum è fare un conto affidabile drammatico e al tempo stesso affidato alle dichiarazioni dei dispersi prima non c'è un dato paragonabile non c'è per nulla un dato paragonabile in termini di possibile accertamento della realtà e della verità è un fatto comunque che sono più di 91.000 le persone soccorse messe in salvo dall'inizio di Mare Nostrum questo è il dato che dà il senso del valore umanitario della missione nata come lei ricordava dopo le centinaia di morti di Lampedusa e che ha guadagnato all'Italia il plauso e il ringraziamento della comunità internazionale dal nostro punto di vista e come ho avuto modo di riferire in aula comunque Mare Nostrum è insufficiente a fronteggiare il carattere strutturale assunto dalle correnti migratorie perché queste correnti alimentano un flusso che è connesso a rivolgimenti di portata storica che hanno interessato il continente africano e altri paesi di origine dei flussi per questa ragione oltre che per la onerosità della missione il governo ha chiesto a più riprese che l'Italia fosse adeguatamente sostenuta nel suo sforzo in ragione dei principi di solidarietà che sono alla base della costruzione europea ed in coincidenza con il semestre italiano di presidenza le pressioni esercitate sugli organismi comunitari hanno sortito un primo e molto molto importante risultato la commissione europea si è infatti impegnata a potenziare l'agenzia Frontex sotto il profilo delle dotazioni organiche e finanziarie per il rilancio della sua azione nel Mediterraneo Frontex assumerà entro il prossimo novembre secondo quanto assicurato dal commissario Malmstrom la regia di una nuova operazione provvisoriamente pubblicisticamente chiamata Frontex Plus che assorbirà due missioni già in atto Hermes e Deneas con lo scopo di attuare la sorveglianza delle frontiere vado a concludere presidente delle frontiere esterne dell'Unione Europea attraverso modalità operative diverse da quelle che hanno connotato Mare Nostrum in quanto la linea di pattugliamento verrà attestata nelle acque territoriali senza la previsione di sconfinamenti le attività di controllo inoltre potranno comportare anche il sequestro e la distruzione del naviglio utilizzato dai trafficanti allo scopo di impedirne il reimpiego l'avvio dell'operazione Frontex Plus consentirà il progressivo disimpegno dell'Italia da Mare Nostrum e potrà segnare il passaggio ad una nuova fase di maggiore impegno dell'Unione Europea per garantire la integrità delle sue frontiere in conclusione dico che comunque da quando abbiamo avviato l'operazione sono stati arrestati oltre 500 mercanti di morte oltre 500 scafisti grazie ministro facoltà di replicare l'onore per due minuti parliamo parliamo di stime signor ministro noi la nostra impressione è diversa per non dire opposta ed è anche intuibile perché questo dovrebbe essere a nostro favore la teoria dovrebbe darci ragione perché è aumentato non solo il rischio assoluto nel senso che l'operazione Mare Nostrum ha tirato un maggior numero di clandestini nel nostro paese ma anche perché ha aumentato il rischio relativo nel senso che le imbarcazioni usate da questi trafficanti di armi sono notoriamente più insicure sono di veri e propri carrette del mare dei mezzi fatiscenti che contano sul fatto che al primo SOS comunque la marina militare italiana corre in loro soccorso quindi abbiamo aumentato il loro rischio e la invito signor ministro a prendere esempio da democrazie più avanzate della nostra come quella più attente ai diritti anche dei loro cittadini come quella australiana che ha debellato i traffici di esseri umani con una linea apparentemente più dura ma che alla lunga si dimostra più efficace e anche più rispettosa degli esseri umani non si nasconda dietro il facile alibi dei buoni principi di belle parole come solidarietà ed accoglienza l'effetto vero generato da questa operazione è una vera propria violenza perpetrata nei confronti della parte più debole della nostra popolazione della nostra società che è già provata da una crisi economica che toglie loro il lavoro la dignità e le prospettive a questi problemi con Mare Nostrum abbiamo aggiunto insicurezza e la paura per la propria incolumità come è accaduto nell'episodio che è molto esplicativo in questo senso dell'audista dell'Attac l'altro giorno a Roma ed ha deteriorato il già compromesso decoro delle nostre città delle nostre periferie e delle nostre stazioni inoltre me lo lasci dire lei con questa operazione che ha anche un risvolto finanziario importante umiglia quella centinaia di migliaia di pensionati italiani che vivono con meno di 500 euro al mese quando ogni clandestino sul nostro territorio ci costa minimo il doppio dei soldi noi li ospitiamo così generosamente non altrettanto generosamente e non altrettanti attenzioni riserviamo i nostri cittadini più indifesi e più deboli grazie grazie interrogazione 3047 onorevole Dorina Bianchi ed altri concernenti iniziative per garantire la sicurezza dell'Italia in considerazione dell'evoluzione della minaccia giadista e della situazione internazionale l'onorevole Vincenzo Piso la illustra per un minuto grazie presidente signor ministro l'organizzazione terroristica dell'ISIS che ha proclamato il sedicente califato islamico ha oramai preso il controllo di vasti territori all'interno degli stati dell'Iraq e della Siria da mese oramai si sta rendendo protagonista di violenze atroci nei confronti di varie minoranze etniche e religiose nonché degli ostaggi occidentali dapprima rapiti e di seguito barbaramente trucidati lo scorso 22 settembre questa organizzazione ha di nuovo esplicitamente minacciato l'Italia e più precisamente la città di Roma lo ha fatto con un videomessaggio di circa 40 minuti in cui uno dei capi di questi terroristi ha incitato militanti dell'organizzazione ad uccidere tutti i miscredenti in ogni modo e luogo specificando che l'obiettivo ultimo della loro guerra all'Occidente è la conquista di Roma minacciando azioni clamorose in tutti i paesi che prendono e prenderanno parte alla coalizione militare che dovrà si spera sconfiggere l'Isis è evidente quindi alla luce di queste minacce dirette il rischio di attentati nella capitale senza voler alimentare inutili e pericolosi allarmismi è da considerare aumentato e per questi motivi chiedo a lei di indicare cose il governo ha già posto in essere ed intenda fare per contrastare la realizzazione di queste minacciate azioni criminose grazie 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 il ministro dell'interno Angelino Affano ha facoltà di rispondere prego signor presidente onorevoli deputati l'onorevole Piso in considerazione dell'evoluzione della minaccia riconducibile al fondamentalismo islamico ha chiesto quali iniziative ulteriori siano allo studio del governo per garantire la sicurezza del nostro paese ed in effetti le più recenti esternazioni dell'Islamic State dichiaratamente minacciose nei confronti dell'Italia e di Roma rendono indispensabile elevare il livello di guardia tenuto conto anche dell'offensiva delle forze di cooperazione in territorio siriano e che questa offensiva potrebbe innescare forme di reazione come ho già affermato nelle informative alle camere del 9 settembre scorso è necessario non trascurare alcun segnale di pericolo anche il più tenue mantenendo il costante controllo degli obiettivi maggiormente esposti e rafforzando l'azione di monitoraggio e di intelligenza investigativa specie nei riguardi dei luoghi sia reali che virtuali dove possono avvenire forme di incitamento alla violenza se non proprio di reclutamento di aspiranti ciadisti è in quest'ottica che può considerarsi convocato in permanenza il comitato di analisi strategica antiterrorismo tavolo di alto coordinamento in cui interagiscono rappresentanti delle forze di polizia e degli organismi informativi l'attenzione dovrà rivolgersi anche all'adeguamento degli strumenti normativi rispetto all'evoluzione della minaccia terroristica e l'introduzione di norme penali e di prevenzione potrà aiutarci a neutralizzare meglio l'insidia rappresentata dall'improvvisa attivazione di cellule solitarie intenzionate a colpire nel cuore dell'Occidente in quest'ottica stiamo perfezionando in stretta concertazione con il Ministero della Giustizia disposizioni in grado di mettere i foreign fighters in condizione di non nuocere e una volta intercettati anche di allontanarli dal territorio nazionale ampliando la possibilità di espulsione di fronte ad una minaccia globale non può che essere altrettanto globale la risposta e la cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia resta dunque un indispensabile fattore strategico che andrà potenziato con l'intensificazione degli scambi informativi e delle migliori prassi investigative in ambito europeo inoltre è andata avanti la nostra proposta di costituire una squadra multidisciplinare mirata specialmente al monitoraggio dei combattenti stranieri naturalmente la Presidenza italiana rappresenta in questo momento lo scenario di maggiore rilievo sul quale potranno trovare seguito le iniziative di rafforzamento delle attività di collaborazione degli spostamenti in tutta l'Unione Europea verrà a questo riguardo dato incremento al progetto di realizzare e disciplinare in modo uniforme l'uso di una banca dati basata sul codice di protezione passeggeri il passenger name record che metta a disposizione delle polizie le liste dei passeggeri dei voli in transito nell'area Schengen o in arrivo dai paesi terzi nel concludere nel ribadire la serietà della minaccia jihadista è anche giusto tuttavia ricordare che le risultanze investigative non evidenziano al momento l'esistenza di specifiche progettualità o stili volte a colpire obiettivi collocati nel territorio nazionale o interessi del nostro paese all'estero la ringrazio la ringrazio ministro Alfano a facoltà di replicare l'onorevole Piso per due minuti se il microfono lo permette perfetto grazie presidente ministro la ringraziamo anzi ci scusiamo anzi se la stiamo un po' stressando con questa serie di richieste di come dire informazioni rispetto a una a una questione che ci tocca anche come parlamentari nazionali ma specificamente nel mio caso di Roma anche perché riteniamo che al di là di tutto al di là di queste minacce ventilate Roma sicuramente proprio per come dire la valenza simbolica che che ricopre può essere effettivamente vista da chi ha motivazioni di carattere religioso relativamente appunto alla appartenenza a questi gruppi terroristici di radicalismo islamico e quindi mossi da motivazioni di carattere religiose estremistiche può avere Roma appunto una valenza simbolica molto 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 forte e può effettivamente essere come dire un obiettivo sicuramente sicuramente sensibile peraltro ISIS ha delle specificità piuttosto preoccupanti sono state più volte ricordate questa volontà di radicare di riprendere un territorio istituzionalizzare come dire un territorio del radicalismo islamico le grandi la grande disponibilità di risorse ricordata anche ultimamente dal re di Giordania questa capacità in virtù di queste risorse di poter attingere una sorta di legione straniera come dire mondiale europea e anche purtroppo con nostri concittadini e tutto questo ci porta a una situazione sicuramente molto molto pericolosa non ultime le dichiarazioni dell'ex primo ministro Blair che speriamo questo non avvenga mai ha addirittura ventilato la possibilità di un intervento anche via terra nei confronti dell'ISIS per cui una situazione sicuramente molto pericolosa la ringraziamo di nuovo per le deluciazioni che ci ha fornito e ci riteniamo assolutamente soddisfatti in questa fase grazie interrogazione 3.048 degli onorevoli Brunette Galati concernente iniziative per lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco del consiglio comunale di Reggio Calabria contestualmente alle elezioni per il rinnovo del presidente della giunta del consiglio regionale della Calabria grazie presidente signor ministro come lei certamente sa sono state indette le elezioni regionali che si svolgeranno nella data del 23 novembre questo turno paradossalmente preceduto con le votazioni già precedentemente fissate dal consiglio dei ministri per le elezioni comunali di Reggio Calabria città metropolitana per il 26 ottobre a tal proposito siamo qui a chiederle a conoscere il pensiero del governo se non sia invece una cosa sensata accorpare in un unico turno elettorale l'elezione regionale e quella amministrativa questo governo così come nel paese si predica il rigore il risparmio e quindi la famosa spending review che viene portata a tutti i livelli certamente l'istituzione dell'election day in questo caso permetterebbe non solo un notevole risparmio per le casse dello Stato ma anche come puoi immaginare una più ampia partecipazione democratica in quanto Reggio si rischierebbe di votare per tre volte nello stesso mese la ringrazio l'onorevole Galati ministro degli interni Angelino Alfano ha facoltà di rispondere prego l'onorevole Galati chiede anche nel necessario contenimento nell'ottica del contenimento della spesa pubblica di accorpare in un'unica data due appuntamenti elettorali previsti in Calabria stabilendo che le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco del consiglio comunale di Reggio Calabria si svolgano contestualmente alle elezioni regionali fissate dal presidente reggente della regione Calabria per il prossimo 23 novembre per essere molto chiari poiché stiamo parlando di una fattispecie particolare dei comuni sciolti per mafia io devo dire che non non è possibile non risulta più possibile rinviare la data del turno elettorale di elezioni amministrative del turno autunnale nei comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso fissata per il 26 ottobre in quanto in quanto il procedimento elettorale è già in corso essendo stati convocati i comizi elettorali è completata la maggior parte degli adempimenti previsti per la revisione straordinaria delle liste peraltro è in atto da tempo l'attività di raccolta delle firme e ovviamente per la presentazione delle liste delle candidature che dovranno essere depositate dalle ore 8 di venerdì 26 alle ore 12 di sabato 27 settembre e l'emanazione di un nuovo decreto del ministro dell'interno che fissi un'altra data annullando il precedente decreto vanificherebbe pertanto tutti gli adempimenti già effettuati con una serie notevolissima di inconvenienti tecnici infine sul piano del merito la richiesta di fissare la data delle elezioni comunali per il 23 novembre sembra non considerare che in caso di ballottaggio si tornerebbe al voto il 7 dicembre in coincidenza con il ponte dell'immacolata con possibili ripercussioni negative sull'affluenza alle urne dei cittadini reggini ringrazio il ministro l'onorevole Galati può replicare per due minuti prego sì signor ministro siamo rimasti molto delusi alla sua risposta in quanto questo governo ha predicato l'idea di tagliare gli sprechi laddove è possibile ne ha fatto una questione di volontà politica importante del resto circa due anni fa proprio alla Leopolda Matteo Renzi parlava e approvava con piacere l'idea dell'Election Day in quanto si risparmiavano soldi e tempo e anche la questione dei tempi troppo stessi mi consenta per un governo che predica Renzi che lavora sulla velocità della luce sulla rapidità delle scelte ne fa una questione di immagine non mi sembra che questo possa essere accampato le ragioni sarebbero molto importanti si ridurrebbero i costi e lei può immaginare che significa tre turni invece dei potenziali due di cui stiamo parlando che cosa significherebbe i tanti giorni di scuole perse nell'area città di Reggio Calabria si voterà quasi esclusivamente nei seggi degli edifici scolastici cioè stiamo organizzando un sistema per il quale si perderanno dei soldi per i quali lo Stato ci rimetterà per la quale i ragazzi e le famiglie avranno molti disagi signor Ministro non credo la verità è un'altra la verità è politica si vuole fare anticipare le elezioni di Reggio prima le elezioni regionali ma si abbia la volontà di dire questo almeno con molta chiarezza la ringrazio interrogazione 3.049 dell'onorevole Larussa concerniente chiarimenti iniziative di competenza in relazione alle asserite conseguenze dell'esposizione di uno striscione contenente osservazioni critiche riferite alla vicenda dei Marò presso un esercizio commerciale nel comune di Milano l'onorevole Ignazio Larussa la illustra per un minuto grazie grazie presidente la vicenda è molto piccola signor Ministro di per sé ma l'abbiamo scelta per questo question time perché ci sembra che illumini sulla reale volontà delle forze politiche e in genere del potere costituito chiamiamolo così nella solidarietà ai due Marò la vicenda è semplice un vicepresidente di un consiglio di zona di Milano del Partito Democratico scrive all'assessore del Partito Democratico segnalando che in una via di Milano c'è uno striscione attaccato al muro di un bar il cui bar naturalmente covo di fascisti o addirittura nazisti e quindi immediatamente l'assessore si attiva e dall'indomani viene elevata la contravvenzione a quel proprietario del bar che fra l'altro non ha attaccato lui lo striscione ma ne condivide il contenuto si noti che il bar è l'unico nella zona italiana per il resto ci sono centri massaggi e quant'altro bene noi vogliamo sapere se le minacce che ha subito questo bar i controlli assidui che continua a subire e quant'altro siano frutto di una direttiva generale come possa invece il ministro degli interni aiutarlo a svolgere liberamente la propria attività grazie onorevole la russa ministro dell'interno Angelino Alfano può rispondere per tre minuti signor presidente l'onorevole la russa ha esposto chiaramente la questione quindi non la sintetizzerò in premessa dagli elementi acquisiti risulta che nella via Brusuglio di Milano in effetti sia stato esposto uno striscione che con riguardo alla nota seguitissima dal governo vicenda dei due marò italiani trattenuti in India irride alla presunta incapacità del governo di risolvere il problema dei nostri due ragazzi dagli elementi acquisiti risulta che lo striscione porti la firma di un'associazione di commercianti artigiani e liberi professionisti della zona che ha sede presso lo stesso esercizio pubblico e l'onorevole la russa peraltro mette in relazione i presenziunti accanimenti con l'ulteriore circostanza che il barra sarebbe ritenuto un luogo di frequentazione abituale di estremisti di destra quanto ai fatti è stato accertato che nei confronti del titolare a seguito di una segnalazione effettuata al competente assessorato del comune di Milano sia stato elevato dalla sezione annonaria della polizia locale un verbale di contravvenzione con il quale è stato contestato che lo striscione era stato esposto in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa non risulta tuttavia che siano state mai poste in essere da parte di uffici della questura attività di qualunque genere nei confronti dello stesso esercizio del suo titolare in altri termini non sono stati effettuati controlli di carattere amministrativo o investigativo anche riferiti a un'eventuale connotazione politica dell'associazione e dei suoi animatori nemmeno risulta peraltro che l'esercizio commerciale sia frequentato da esponenti della destra extra parlamentare ad oggi l'ostricione risulta ancora esposto avendo il gestore del bar espresso l'intenzione di non rimuoverlo fino alla festa di quartiere in programma per il 28 settembre allo scopo di segnalare alle autorità comunali lo stato di degrado di cui soffrirebbe la zona anche a causa dell'elevata presenza dei cittadini stranieri mi sento personalmente in conclusione di poter rassicurare rispetto alle preoccupazioni che vengono espresse nel caso specifico e anche in generale dall'onorevole Larussa riguardo all'operato di uffici o articolazioni che da me dipendano grazie grazie